Allora, come va? Bene? Bentornati! Questa è una partita a Mook, Mook, Mook di Mook E adesso viene la notte, la notte ci sono i cattivoni Ma noi siamo pronti! Oh la madonna! La madonna! Stavo scherzando! La madonna! Ma che siamo scemi? Io come lo batto quello? No no no, via! Quello è il guardiano, ma è gigante! Minchia! Ma meno male che... Ma non ce la farò mai! Non sto pure scoperto! Porca troia! Come lo batto quello? Madonna! Madonna! No no, ma siamo pazzi! E' alto una montagna eh! Proprio una montagna! Ma come... Tra le altre cose il Dark Hot non l'ho trovato! Forse è quello il Dark Hot! Ma quello mo' mi seguirà per sempre, tipo? E' perché è un casino eh! E' proprio un casino! Ok! Sta facendo il giorno! Mi ha voluto bene eh! Oakwood Tools! Oakwood! Ma come cazzo faccio? Oh merda! Ma che siamo scemi? Ma come lo batta quello? Oh porca troia! Ma siamo scemi oh! Non ho già manco l'arco mi sa... Ah si ce l'ho l'arco! Ma che siamo pazzi scemi! Ok da qua da... Cazzo ma io ho... Ho collezionato... Stupido tè! Stupido tè! Via di quei! Stronzo! Che cosa l'ho troppato? Che cosa l'ho troppato? Oh merda! Merda! Ma siete scemi! Ma siete scemi! Eh vabbè ma... Con quest'arco di mitril... E' so sgravissimo! Ok... Sulla mappa questi... Ok ci stanno tutte e due quindi... Non me li devo più tenere... Unlock hammer shaft... Ok... 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 Eeeh... Via! Ok con mitril posso farmi... L'armatura... Ah pure di adamantio lo potrei fare... Che ci manca? Però la diamantio... La adamantio che dovrebbe... Mi fare le armi... Non è... Chunk... Chunk... Kimbar... Chunkiumbar... Chunkiumbar... No eh... L'ho provato... Ok... Fear... Fear... Eeeh... Rialaggiamo... Quindi... Ok... Obamium... Golden bar... Questo a che serve? Ah, guarda sto stronzo bastardo Lasciate la roba, come sta? Lasciate la roba, come sta? Ok, vabbè, facendo così ci sta Ok Il caldo room Io non so questo qua Che cazzo sai? Forse devo costruire una ball Vediamo Quando questo ci metterà una settimana Vediamo così, va Questo Ah, la pasta Quindi fa il pane questo Ah, bene Okun fear wood Allora, devo assolutamente farmi Ah, questa è l'armatura di Ok Ci facciamo anche questa E scarpette Ok Ok, ci sta Ma forse la fireball La posso mettere qua? No Boh Ok Mi sono bloccato Bulldozer No Baked the enemy No Back Più stamina Ci sta Mi serve la stamina Ah, ma è finito Senti, ma questo l'abbiamo già segato una volta Bia 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 Ormai questo è facile perché è lento Più o meno gli sto prendendo sempre la testa Devo fare veloce prima che... Ok Che cazzo è? Ma che siamo al cazzo? Porca... La ma... Madò... Madò... No vabbè No vabbè ragazzi No posso dirvi che mi piace un sacco Perché... Kill 100 Woodmen Ce stanno tantissimi You're not a fish Ah si può affogare anche Treasure Hunter You're a fish What the muck Boh È un gioco veramente veramente figo Questo Dani io non lo conosco Voglio un attimo vedere perché Dani sembra italiano il nome Però... Devo dire che è veramente... Veramente bravo Non me lo aspettavo Sono dei giochetti che non mi spiego perché siano gratis Perché io qualcosa li farei... Li farei sempre pagare Mi sono spoilerato una cosa che non vi spoilererò Quindi... Amen Bello Bravo questo Dani E... Sono giochi veramente veramente simpatici Ci vediamo alla prossima